Euro Regioni News Talma Sons, estate senza noia Una delle località più animate del Medio Friuli dove tra concerti, spettacoli, gite, eventi e manifestazioni quasi ogni giorno c'è un motivo per divertirsi Il sindaco Piero Mauro Zanin ci invita a scoprire la bella stagione Grande iniziative estive, cominciamo a fine luglio con la Sagra di Fluminiano e poi ci sarà festa in piazza a Talma Sons in agosto per chiudere poi il 19 agosto con serata di Galo, con serata dal comune dove quest'anno faremo il Rigoletto messo in scena dalla banda di Castion quindi è un'estate molto movimentata, nel frattempo ci saranno anche musica in villa apriremo sia la Villa Mangigli a Fluminiano che la Villa Savorniana a Flambro e faremo tutta una serie anche di attività, di convegni anche per i più piccini quindi con iniziative rivolte alla loro attività in occasione anche del centro estivo di una grande manifestazione organizzata proprio da loro quindi insomma a venire a Talma Sons, anche se è un piccolo paese, non ci si annoia anzi c'è molto da fare, più che altro sentire quella comunità vicina quel sentirsi in famiglia che è la cosa importante di tutte le comunità friulane dal Medio Friuli per Euroregioni News Marco Mascioli Euroregioni News